Ancora un intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste a favore della Sanità Triestina, che in questa occasione si è concretizzato nell'acquisto e dono alla struttura complessa di malattie infettive localizzata nella palazzina dell'ospedale maggiore che si affaccia su Via Gatteri di un ecografo portatile digitale. L'apparecchio è destinato alla diagnosi preliminare di malattie infettive sia a favore dei pazienti costretti a letto, sia a livello di visita ambulatoriale. La Fondazione quest'anno, nel 2016, diciamo che ha messo circa 560.000 euro su questi acquisti, quindi io sono molto contento che questa volta sia la struttura clinica di malattie infettive. Consegnato ancora lo scorso agosto, l'ecografo rappresenta la tecnologia ad ultrasuoni più efficace e ben tollerata sia nella diagnosi di numerose patologie di eziologia microbica, sia di altre patologie infettive che richiedono la diagnostica per immagini preliminare. Ci permette di fare una diagnosi preliminare di infezioni in particolare del fegato. Mi riferisco a cisti parassitari per ameba, per chinococco, che sono germi che possono interessare il fegato e dare cisti a livello epatico. L'altro settore importante è quello delle linfoadenopatie, cioè delle patologie a carico dei linfonodi, dove alcune infezioni provocano delle alterazioni caratteristiche e uno screening ecografico è importante. Un'altra sede rilevante è il polmone, in particolare la pleura. Il professor Del Caro ricorda come quello di oggi sia il terzo ecografo donato alla sanità triestina, dopo quello per l'urologia e quello per la terza medica. Da sempre abbiamo un'attenzione per la parte sanitaria, perché questo ovviamente ha un impatto sui cittadini, ha un impatto sulla salute e quindi la fondazione cerca di aiutare le strutture ospedaliere a lavorare al meglio. Oltre ad essere destinata l'assistenza dei pazienti, la nuova apparecchiatura sarà di ausilio per tutte le attività di ricerca e didattica dei medici in formazione specialistica del reparto stesso.